Quest'estate il problema dell'acqua alta sulla riva destra si è ripresentato in tutta la sua gravità. Praticamente quasi ogni sera la riva destra viene sommersa d'acqua, le persone che vengono qui si bagnano. Insomma è una situazione di estremo disagio. Ne vogliamo parlare con i ristoratori. Allora questo era un problema vecchio che sembrava poi andato via e si è ripresentato. Purtroppo questo problema sussiste non da adesso ma da parecchio, però nessuno si prodica per fare qualche cosa. Noi i ristoratori stiamo più all'interno, siamo penalizzatissimi perché la gente che viene in vacanza non è che si porta dieci pari di scarpa, ci avrà uno, due. Quando si è bagnata una sera, la seconda sera non viene più da questa parte oppure si ferma i primi che stanno là davanti, si fermano là, mangio, è noi che stiamo qua in fondo, siamo penalizzati. Ma io vedo che il provvedimento non è di nessuno. Vedo che su quel palazzo giallo nessuno fa niente. Ognuno dice che l'interessato è quell'altro, quello è quell'altro, quello è quell'altro, non sono io. Ma che fanno i cascari e i cabarini? Ma nessuno fa niente. Diciamo che ci sono state diverse proposte in merito per la risoluzione di questa problematica. Negli ultimi due anni era un fenomeno che si andava piano piano ridimensionando, però quest'anno abbiamo avuto l'accentuarsi e l'acquirsi di questo fenomeno. Quindi ci sono state tutta una serie di proposte che sono state fatte all'amministrazione, l'amministrazione le sta avvagliando, sta cercando di decidere quella che è la soluzione migliore. E quindi secondo quegli ultimi aggiornamenti ci dovrebbero essere, questo lo dico molto informale, delle paratie che si alzano idraulicamente ogni volta che c'è questo fenomeno dell'alta marea. Così si evita praticamente di costruire un muretto lì che potrebbe rovinare il panorama oppure di innalzare tutta la strada per poi far diventare dei seminterrati i ristoranti. Quindi questa ipotesi, questa soluzione di questi pannelli, di queste paratie che si aprono e si alzano idraulicamente così come succede in Olanda per esempio dove stanno lì, stanno sempre sotto al livello del mare e che quindi sono costretti ad arginare queste problematiche, questa soluzione dovrebbe essere una soluzione abbastanza risolutiva. È un commento, è un fenomeno che da diversi anni si verifica però penso che non è di facile da risolvere, di soluzione perché purtroppo bisognerebbe fare lavori, poi dopo noi ristoriamo a finire che reclamiamo perché ci fanno i lavori. È una cosa da convivere penso, poi potrebbe discutere, fare una passarella, per l'inverno, qualcosa si può fare però non c'è troppo da reclamare secondo il mio punto di vista.